Voi fate schifo, VGF Kid. Charlie è la migliore, tutti quelli che non hanno un Charlie fanno schifo, perché voi fate schifo in realtà. Charlie è la migliore e non potete togliere niente a Charlie, quindi potete toccar Charlie con un solo di destra, anche per insultarla, che vi spacco la faccia. Non di che sono 012, sì, sono una Charlie che defia la piazza, tutti dunchini, fatemi sentire, sotto il mio video, commentate, farlo a Charlie, e tutti quelli che odiano Charlie e a cui non piace Charlie, dovete morire bruciati all'inferno, morite. Voi ho visto uno contro di noi dunchies, che dice che siamo toxic bambini, ma non è vero, tu sei quello toxic, tu sei quello toxic. Voi che non avete Charlie o che non siete cia... dunchini dovete morire bruciati, provate a toccare... Grazie. 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 Grazie.